Salva guardia Impedite a quel robot di avvicinarsi Sistemi del robot nemico online Centro confermato Firebreak eliminato Tutto fumo e niente arrosto Il loro robot è fuori uso Robot online, disattivatelo Firebreak a terra Soldato a terra Batteri a terra Cecchino a terra Ce n'è uno Batteri a terra Ucciso Hcxd ameato in campo Sparro pronto Outrider eliminato Hcxd nemico nell'area Un cecchino a terra Cecchino Roboto stile fuori uso Qua V in arrivo Beccato Sistemi del robot nemico online Batteri eliminata Firebreak fuori gioco Batteri a battuta Ruina terra Il robot nemico si avvicina alla nostra base Prendetevi addosso C'è ancora molto da fare Nemico a terra Intervallo Scortate il robot fino alla base nemica Sequenza d'avvio completata Sistemi del robot online Qua V alleato in arrivo Tutto fumo e niente arrosto Facci di amici L'ha giù Cecchino 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 Nemico a terra Hanno disattivato il nostro robot Approvisionamento pronto E' morta. Stato robot nella notte. Una mira. Fire break a... Reggio. River, a terra. Guardian in posizione. Centro confermato. Il nostro robot è fuori uso. Il mio ha distrutto il vostro Guardian. Outrider eliminato. Il nostro robot è stato riattivato. Demolitrici. Addio. Hanno disattivato il nostro robot. È uno di loro. Ruina a terra. Sequenza d'avvio completata. River eliminato. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Abbattuto. Il nostro robot è fuori uso. Er... Ce ne sono altri? Guardian. Stato robot nella notte. Robot in prossimità del bersaglio Li avete schiacciati Rifatelo nel prossimo round Confermo Tempo di missione prolungato Impedite al robot nemico di raggiungere la nostra base Dobbiamo rifornirci Robot online, disattivatelo Arriva un HC-XD Tacom, UAV, subito Finaccia rimossa Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo Riper ucciso Fire break a terra UAV, in arrivo UAV, 50% di autonomia UAV, distrutto Ha, 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 ha Visto, ci voleva proprio Pusti, lermat UUH UUH Contatto Ha battuto Abbattuto Un cacchic UAV, in arrivo UUH 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 un cecchino a terra combattente eliminato cecchino sistemato via lì contatto il robot nemico è fuori sparro è disponibile eliminato minaccia risolta hcxd alleato in campo il robot nemico è in movimento puoi via alleato in arrivo preso il loro robot è fuori uso robot online disattivatelo preso tutto fumo e niente arrosto tutto fumo e niente arrosto coraggio eliminato robot ostile fuori uso hcxd nemico nell'area il robot nemico è in movimento ben fatto cdp avanti così e torniamo a casa supplementari Scortate il robot fino alla base nemica Il nostro robot è stato riattivato Tutto fumo e niente arrosto Assegno Dart, pronto all'uso Dart attivo UAV in arrivo Centro confermato Sparro pronto Hcxt in uso Confermo uccisione UAV alleato in arrivo Il nemico ha disattivato il nostro robot Firebrake eliminato Stato robot nella norma Fuori Utilizzare Hanno disattivato il nostro robot Il nostro robot è stato riattivato Uccisione confermata Minaccia risolta Firebreak eliminato Il nostro robot è fuori uso Sequenza d'avvio completata Eliminato Sistemi del robot online Centro confermato Hanno disattivato il nostro robot È morta Il nostro robot è stato riattivato Uccisione Batteria a terra Il nostro robot è fuori uso Sparro pronto Cacciamo Stato robot nella notte Robot in arrivo Fatelo passare Sparito 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 La testa Devevi In Perciò Sparito